Uno delle migliaia di fantasmi senza volto e identità che girano liberamente nel Veneto ha colpito. La situazione ormai è giunta all'esasperazione. Sono le prime dichiarazioni del governatore Luca Zaia dopo aver appreso la notizia della minorenne padovana molestata da un immigrato del Mali. Purtroppo eravamo stati facili profeti nel lanciare, inascoltati dal governo, un forte e ripetuto segnale d'allarme rispetto alla possibilità che nel caos che regna sovrano si verificassero reati e atti rivoltanti come questo, continua Zaia, che chiede che questo crimine non rimanga impunito. L'hanno preso e ora non resta che buttare la chiave, conclude il governatore esprimendo solidarietà alla famiglia della ragazzina. Questa è l'ennesima dimostrazione dell'inadeguata gestione dell'arrivo di moltitudini di persone senza un minimo di garanzie. Gli fa eco l'assessore regionale Roberto Marcato che attacca il governo invitandolo a guardare e garantire i diritti dei cittadini italiani. Nel suo profilo Facebook interviene anche il sindaco di Padova Massimo Bitonci che chiede la castrazione chimica per il profugo. Dura anche la presa di posizione del consigliere regionale del Carroccio Fabrizio Boron. Purtroppo tutti questi profughi, la maggior parte sono clandestini perché bisogna chiamarli con loro nome, vengono in questo paese, hanno culture diverse. Oltretutto si sentono anche impuniti perché vengono qui, vengono mantenuti, non fanno nulla. Oltretutto quando vengono beccati anche in qualche reato, vedono che questo paese non punisce, si sentono liberi di fare quello che vogliono. La condanna alla violenza arriva anche dal Partito Democratico. Non possiamo che aggiungerci a una ferma condanna di questo episodio, dopodiché ovviamente la nostra solidarietà va nei confronti di questa ragazza e della famiglia. Detto questo, il nostro invito a tutte le forze politiche è ovviamente a non strumentalizzare perché è un episodio che ci colpisce tutti negativamente.